A sette giornate dalla fine va in scena al Virgilio Fedini il derby fra San Giovanni Valdarno e Gialloblu Figline. Contrastanti pensieri in campo fra le due formazioni. Sangio che deve vincere per mantenere il primo posto in solitario, Gialloblu che vuole provare ad agganciare il treno playoff. Per farlo i tecnici delle due squadre si affidano a formazioni votate all'attacco. Figlinesi con tutta la rosa disponibile mentre i bianco-azzurri devono fare a meno di Fettolini e Benucci infortunati. Tridenti d'attacco per le due formazioni che fanno invidia a squadre di categorie superiori. Da una parte De Gori, Pica, Missaglia e dall'altra Frediani, Pignattaro e Gorini. E proprio loro saranno gli osservati speciali del match. Arbitra l'incontro il signor Somma di Castellammare di Stabia. E con le immagini curate da Andrea Fantechi entriamo nel derby. Al terzo minuto Missaglia prova la girata ma Bormida evita distendendosi sulla destra. Al quinto minuto siamo già dalla parte opposta con Pignattaro che prova dal limite ma il pallone sfiora l'incrocio. Al tredicesimo la giallo-blue passa in vantaggio dopo il miracolo di Berti sul colpo di testa di Giannoni e bravo Silei a farsi trovare pronto e a portare in vantaggio la squadra di Mister Fora Sassi. Lancio corto verso Vannini. Il calcio al centro ancora. Un altro... Attenzione qui! È bravissimo! Incredibile la rete! Figlini in vantaggio! La rete segnata al tredicesimo minuto da Silei. Figlini in vantaggio. Dormita generale della difesa del San Giovanni Valdarno e la squadra di Mister Fora Sassi. Dopo tredici minuti è già avanti Alfedini. Cristian. Sì, un gol di Silei, il metronomo. Al ventiduesimo la Sangio ha già la possibilità di pareggiare con Bormida che non trattiene il tiro di Pica e Silei che compie il miracolo ribattendo il tiro di De Gori. Al ventitresimo è Pignattaro che fa la barba alla traversa. Al ventottesimo Missaglia manca il pallone e il gol sul cross di Pica. Al trentunesimo Pica la mette in rete ma era alzata la bandierina del guardaline dalle nostre immagini al replay fuori gioco che sembra esserci. Azioni da una parte e dall'altra. Al trentaduesimo Pignattaro è bravo a crearsi l'occasione ma Berti blocca. Al trentaseiesimo Alessandro Bega non coglie l'attimo e aspetta un po' troppo per il tiro con la difesa che salva sulla linea l'azione più nitida del primo tempo del Marzocco. Al quarantatresimo è bravo Pica a stoppare la palla e a incrociare sul secondo palo ma il pallone non entra. Duplice fischio dell'arbitro che arriva dopo un primo tempo bellissimo ricco di emozioni e giocato a viso aperto da entrambe le formazioni. Passiamo al secondo tempo. Al quindicesimo minuto Frediani impegna Berti dal limite. Al ventottesimo sempre Frediani prova la magia dal limite ma il pallone si spegne sul fondo. Al trentunesimo Menichini dopo un'azione perfetta sulla fascia della Sangio sbaglia mandando fuori. E al quarantasettesimo Caparbio Menichini che trova lo spazio per il tiro ma Bormida blocca. Al quarantottesimo l'ultimo minuto miracoloso della Sangio in alcune partite non lo è stato per il derby con Menichini che sbaglia da due passi il gol del pareggio in extra time. Il fischio finale sancisce la vittoria dei Figlinesi in casa del Marzocco e anche se il pareggio era il risultato più giusto i ragazzi di mister Forasassi hanno tirato fuori il valore della squadra proprio contro i Cugini. Sangio che viene superata dal Sandonato ma che ha un punto dalla vetta e a sei partite dalla fine deve solo pensare a portare a casa i 18 punti in palio e sperare nel passo falso della squadra fiorentina. Magari proprio contro la Giallo Blu fra tre giornate. Interviste dopo partita siamo con Marco Coppi. Oggi una delusione, un'amarezza soprattutto per i tanti gol sbagliati soprattutto nel primo tempo. Amarezza per i gol sbagliati e per la prestazione del secondo tempo non è stata adeguata alla nostra squadra. Che dire, era un derby, saranno contenti i signori di Figline, hanno pianto tutto l'anno, l'unico obiettivo stagionale per il signor Forasassi era far perdere il campionato alla San Giovannese. Probabilmente ci riusciranno. Voglio dire anche, almeno togliamo subito tutti i dubbi a tutta la gente, che se questo campionato lo perdiamo lo perde l'allenatore in prima persona perché sono io che mandano in campo questa squadra. Quindi me ne assumo ancora una volta, per l'ennesima volta, tutte le responsabilità del caso. Non sono contento né della squadra, né dell'arbitraggio, né del comportamento degli avversari, che forse la guerra bisognava lasciare domenica scorsa invece di scansarsi e far tirare in porta uno a tempo scaduto. Comunque, onore al signor Forasassi e al signor Chenni che hanno salvato la stagione. E noi ci leccheremo le ferite, siccome siamo sempre noi quegli antipatici. Poi quando andavano a giocare con le altre squadre, polgono il fianco sempre. Questa è una cosa che mi dispiace e la dico, la dico, è bene che se la risentano. Beh, comunque, comunque, la squadra non è stata all'altezza. Ripeto, me ne assumo totalmente la responsabilità. Se questo campionato lo perdiamo lo perde l'allenatore. Beh, comunque, Marco, dobbiamo dire che comunque San Giovanni adesso è secondo. Non abbiamo, non mi piace neanche l'atteggiamento delle terni arbitrali che vengono a San Giovanni con un metro dietro il nostro attaccante, non fanno altro che tirare su queste banderine. Falli mezzi e mezzi sono sempre delle squadre avversari. Purtroppo da Calenzana è cambiato il polvento. La colligiana l'hanno riportata sotto, volutamente, anche oggi assistente di Siena. Il Sandonato, cosa dici? Il Sandonato sta facendo un grosso campionato, sta facendo quello doveva. Purtroppo il Sandonato lì abbiamo sbagliato noi perché tra Rignano e i soci abbiamo riaperto il campionato. Beh, quella fu una partita comunque da vincere per San Giovanni Valdarno. Ovviamente si possono sbagliare per oggi. Parlando della prestazione, San Giovanni Valdarno c'è stato in campo il pareggio, era forse il risultato più giusto. No, ma l'importante è come ho detto nella trasferta di Rignano. Vedi, la Rignanese è andata a Colle e mi sembra abbia pareggiato. Sì, sembra così dai risultati. Ha fatto interamente il suo dovere. Speriamo adesso lo faccia anche questi signori del figlino quando vengono gli amici di Sandonato, amici di Forasas, di Chieni, tutta questa gente qua, tutti amici loro. Solo il San Giovanni, tutti i nemici. Il San Giovanni è sempre il nemico di tutti. Non si capisce a me ma, siamo antipatici. Non credo. Sicuramente oggi... Sono veramente incazzato, è deluso. Comunque Marco, guardando avanti, perché è sempre bene guardare avanti, guardando il bicchiere mezzo pieno, c'è stata una prestazione buona da parte dei tuoi giocatori. Peccato che è mancato solo il gol. In due o tre occasioni, veramente, per qualche centinaio. Buona direi solo nel primo tempo. Nel secondo tempo... Nel secondo tempo è stata un po' sciarba da tutte e due le parti. Nel secondo tempo non è stata buona. Onore a chi ha vinto. L'importante è che si faccia sempre... ogni domenica è il proprio dovere. e le guerre facciamole sempre. Basta, voglio solo aggirare. Va bene, grazie. Con mister Beppe Forasassi... Le guerre si fanno in un'altra parte, Marco. Oggi è una partita che comunque vi ha visto vincitori, un derby importante. C'è stato un pizzico di fortuna in alcune situazioni per la Giallo Guinfelline, però alla fine comunque il gol è arrivato, la vittoria è arrivata, dopo un po' anche di partite... Di pippe. Io penso che abbiamo fatto una buona partita come l'abbiamo fatto domenica scorsa. Domenica scorsa non ci ha detto bene, perché non meritavamo di essere sconfitti. Se vogliamo rapportare, sento quello che si dice in giro, la partita di domenica scorsa. Quest'anno, questa partita, siamo stati anche un pizzico di fortunati e questo ha fatto la differenza. Penso che non si possa andare in giro senza un pizzico di fortuna, da nessuna parte, né nel calcio né nella vita. È stato un ottimo Frediani, l'abbiamo visto addirittura arrivare fino alla difesa a difendere. Si è messo a disposizione della squadra. Ora vincevamo, quindi Emiliano è il capitano, è il nostro giocatore insieme a Federico Mori, meno giovane e più rappresentativo, quindi è giusto che sia così. Però credo che tutta la squadra abbia lottato su ogni pallone dall'inizio alla fine, abbia dimostrato che questa classifica è bugiarda, però questa è, quindi vuol dire che ce la siamo meritata. E credo che abbiamo fatto quello che dovevamo fare, preparandolo con cura durante la settimana. Poi ti ripeto, nella vita ci vuole sempre che magari quella palla batta sul pallone e vada dentro anziché fuori. Anche perché la Giallobuffelline si fa un po' più sotto ai play-off e lascia più la zona play-out. Si punta ai play-off dopo questa vittoria, visto che mancano ancora sei partite? Ma è una domanda che mi hai già fatto un settimana. Eh, lo so, lo so. Però adesso la faccio perché hai vinto. Adesso siamo a 33 punti, era un pezzetto che non muovevamo da 30. Siamo sicuramente, stiamo recuperando tutti, oggi anche se con qualche cerotto, ma insomma siamo rientrati tutti. E questo è sicuramente un qualcosa di importante da qui alla fine. Poi dopo veniamo. Adesso abbiamo una partita tosta in casa contro il Zocci, dobbiamo fare i punti per sistemare la prima pratica. Perché, ripeto, tutto quello che è successo a fine quest'anno non tutti lo sanno. Sono andati via molti giocatori. Sono andati via giocatori, ci sono stati infortuni incredibili, ci sono stati giocatori che sono rientrati e sono rifatti male. Quindi le squalifiche che è normale in questo periodo. Adesso che risiamo tutti, credo che risiamo la squadra del giorno in andata. Probabilmente i play-off li potevamo raggiungere. Adesso sicuramente è un pochino tardi. Però da qui alla fine, tanto mettiamo mattone su mattone e poi facciamo i conti alla fine. Emiliano Frediani, come sta? L'abbiamo visto soppicante? Ma è probabilmente un po' di stanchezza, ha sentito forse indurire, una contratturina. Vediamo, cerchiamo di recuperarla in settimana. Però ti ripeto, oggi un applauso lo vorrei fare a Bianchi. Niccolò che ha giocato in condizioni non buone, a Federico Del Vivo, che anche lui rientra da un infortunio. Insomma, bravi tutti, dai. Perché quando si fa una partita così e si porta a casa un risultato così, bravi tutti. Grazie. Grazie. Grazie.